Ciao ragazzi siamo su Infestation Survivor Story e sono qui con Piero 18 Ciao a tutti ragazzi Aspettando che entra anche lui Intanto vediamo dove siamo Ragazzi io sono morto prima perché stavo venendo di sede Piero è crashato Se dipende da lui dagli zombie sono morto anch'io perché un'orda di zombie mi ha attaccato Mi sono anche intrappolato nella recinzione e non riuscivo a liberarmi puramente la k Finito i colpi ma purtroppo avevamo una cittadina e mi hanno attaccato e sono morto Comunque siamo messi male Adesso proviamo a Di nuovo a luttare Vediamo se Ok io sono spoonato Pove la KM Allora io ti invito nel gruppo Perfetto Dove sei? Sono in alto a destra Aspetta Aspetta Non si gioia Non si gioia Non si gioia Che butto come esatto Ok ci sono le case Andiamo nelle case Sto correndo verso di te Ma mi sa che se corriamo tipo ci stanchiamo di più e abbiamo più sede e più fame Prima forse abbiamo sbagliato Vabbè andiamo in quelle case Io intanto corro verso te Ok Vai corri verso di me però vediamo sempre sulla destra dove sto andando io Sì Perché vedo la casa capito? Ora dai primi zombie che incontriamo li abbiamo usciti da cazzotti Ti vedo Eh Ragazzi il primo ucciso è Piero Con la pala perché ho cercato in testa mi ha preso Perché provavo provavo ad uccidere gli zombie ma siccome erano intorno a lui ho beccato anche lui Deve ucciso ed è morto Lui era crashato era messo fermo Per altro contro registriamo capito le nostre cose Sì solo quando registriamo perché prima no tutto tranquillo Adesso Adesso Vedi che ci sono gli zombie non correre Cammina non male Perché se corri ci spottano Ora quando ci sono gli zombie ne becchiamo uno l'uno Lì e lì quando ci vedono intrateggiamo e li e li ammazziamo pugni Senza faccio vedere degli altri Ok Stai fermo stai fermo c'è ne uno solo per l'altro Ok fermo intrateggio Ok Ammazzalo Ciao becciotto bello come è tutto a posto Io ti guardo Spenziale allenamento Mi ha ma beccato figlio di troia Mi ha troppato qualcosa Mi ha troppato qualcosa Non abbiamo nulla ragazzi Perché Io sono molto precedentemente quindi Il personaggio non ha niente neanche una benda per curaccia Avevamo la cappa buona Ragazzi è pieno di zombie non so come agirarli Allora direi di agirarli di non affrontarli Camminando abbassati Ma spera da me così mi sento Non abbassati Ok Abbassiamoci Minchia che è brutto il personaggio quando si abbassa Sembra che c'è che gli è preso un crampo alla schiena Sembra il personaggio quello di cosa di Il signore degli anelli Si è bravo Minchia Minchia Porca miseria I mia testa Aspetta un attimo Cosa c'è un cimitero con un albero abbattuto Ma io sai vorrei adesso l'anello L'anello dell'obiettino Che è per sparire Così possiamo andare alla cazza del non andiamo a giustare mi infatti così non ci vede nessuno andiamo andiamo abbassati lol mi sono alzato per sbarco abbiamo la stessa maglietta ho tanta fame sembra che devo caccare voglio un pescetto crudo succulente oh ma te lo dico se vuoi di farle mangio anche te non ne senti che sono tutti si fila capito attenzione vediamo se riusciamo a trovare qualche cosa in queste case qui che però sono fatte bene le case guarda non sono bello tutte attorniate da come si chiama che cos'è stato sto rumore o cazzo lo senti sì che sto rumore c'è qualcuno che c'è lo so maggiante scelte con cui non c'è sento buoni poi un po' ora un po' l'attacca si sta stanno picchiando qualcosa c'è qualcuno guarda che moriamo con zombie gigante guarda siamo siamo intrappalati ma come cazzo forse è dentro la casa oh mio dio fermo 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 aspetta ma che cazzo è guarda bussano andiamo a aprire la porta andiamo di qua andiamo di qua per abbastanza di poste non si può aprire la porta c'è quello zombie gigante aiuto ma dove dove lo so lo so lo sento no non è zombie gigante alcuni fanno così ah dentro quella casa c'è qualcosa che non mi piace e basta c'è qualcuno non corre ragazzo non stavo correndo sto camminando normale e abbassati non mi vedono andiamo sopra andiamo sopra ma sopra non c'è niente c'è la porta chiusa oh my god siamo spottabili oh una mazza ho trovato buono buono là c'è qualcosa so buggato aiuto aiuto oh c'è uno so aiuto aiuto ammazzolo ammazzolo ragazzi mi sto cagando mori stronzo ok se ne è andato sotto terra c'è una manettina non ci può entrare qua dentro affanculo va forse di là aspetta aspetta fammi uscire fammi uscire come non riesco a trovare non so maledetti hanno rinchiuto c'è la merendina ma maledetti c'è una merendina c'è una roba andiamo a vedere se nelle case là c'è qualcosa ma ci sono gli zombie ah beh c'ho la mazza io ammazzolo ok vai avanti tu allora no no andiamo qua sulla destra abbassati io ci si può andare con del test lo senti sto rumore da questa casa si 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 ma non mi sto cagando il dorso ragazzi eh quella attuato la mazza divide la metà dividi la metà forse qua si può entrare ma se questa fila questa la dobbiamo ammazzare mi sa vai vai tu la mazza non corre così ecco così bravo lasciava guardate che giocatore di baseball parla devi coprire se ci muore ma sta mazza che ne fa danni mica ma ne fa pochissimi guarda all'infinito qui posso stare mi devi coprire la testa no le dette alla testa ok fermo 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 fammi vedere se c'è qualcosa non c'è la minchia c'è un cazzo porca puttana c'è stato qualcuno ragazzi io non c'ho fatto facciamo troppo rumore qua dentro madonna mia che siamo butti sembrano ma non so che cosa stupratori seriali due gol ciao amico anche tu hai trovato l'anello andiamo in quella casa entriamo dentro in quella casa sì sì sembra promettente abbastanza maledetti zombie sono buoni da mangiare vero ma aspetta questa è la casa di prima sto stupido no niente è la casa di prima devo andare a qualche altra parte andiamo da quella parte ci sono altre cose e poi c'erano zombie attraversiamo il mare c'è il po' no aspetta aspetta c'è quello uccidio questo aspetta cammina passato di qua quello uccidio non ti farei vedere tu però che poi ti ammazzo a te c'è un biccone vantelo prendere qui davanti c'è un biccone qui qui Piccone Occhio, occhio, aiuto, aiuto, aiuto Ammazzalo tu, va Fatti copia Pidati il piccone, pigliati il piccone Speriamo che non viene messo di me Dai so C'è anche uno straccio Ma che siamo nel su Minecraft con il piccone? Ma è morto Fosse con il piccone mi faccio più male Eh infatti fai malissimo Sono come con quel coso Andiamo di qua Si può fare assaggionata Ci sono più niente Pignolo cose Vediamo di qua Io con la polvere da sparo Ma non andiamo da nessuno parte Dobbiamo andare sulla sinistra Della altra volta Dobbiamo girare tutta la Ma dovevamo fare tutta la costa Se c'è da qualcuno Ci ammazza Dio di due Tanto Gli allacciano una merendina Era tutto chiuso Non riuscivo a passare Merda Ma tu a fame Siete come stai messo Io per ora bene Basta che non corriamo No ragazzi La terra è troppo lunga Devo andare là Lo vedete In fondo No Da se notiamo Forse moriamo di potermia Tipo del z Non credo Non ci proviamo meglio Perché morire di nuovo Che meglio ci sono Tipo gli squali zombie Sì Ma Gli piragna Gli piragna zombie Gli piragna o paolo Ma anche se non sono zombie Eh infatti fanno lo stesso male Ti attaccano Ma se ti può Vado nella roccia Vendo qualcosa No 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 Sulla roccia Sulla roccia Sulla roccia Sulla roccia Sulla roccia Sulla roccia Appassionante Sulla roccia Sulla roccia Fisco anche io C'è un dilemma C'è un dilemma Se in prima persona Giusto e guanti Nelle mani Non ne ho C'è interessa persona Non hai guanti In prima persona ah no no l'ho visto, vabbè fa niente non ti preoccupare si lo vedo lo vedo se non dimentichi non sono dimenticati a mettere e vabbè sono dettagli dai ricordo questo gioco ragazzi costa solo 2 euro quindi se vi piace il gioco di zombie questa è un'ottima alternativa anche dei zii perchè dei zii attualmente l'ho detto anche nel primo episodio che attualmente non ci sono gli zombie su del zii in questa versione qua ci sono gli zombie ci sono anche i player, la map è più piccola quindi è molto divertente anche qua se volete giocare anche insieme a Piero siamo disponibili sperando che a Piero non crash no no non crash più stai tranquillo non so se tu hai messo la grafica alta ma io quello dell'acqua, l'effetto dell'acqua è spettacolare ragazzi mi piace si lo so io hanno migliorato tantissimo la grafica di questo gioco perchè ho visto alcuni video precedentemente che quando ancora c'erano questi si chiamavano questo gioco adesso si chiama l'investation sulla vera storia la grafica proprio faceva schifo diciamo le case erano tipo mezzo metro da terreno no dvc ma siamo arrivati si siamo arrivati mi chiamerà bello il paesaggio cc ma non ecco l'izzo diciamo qua c'è uno tu ti raccomando non correre cazzo vediamo con quattro colpi tre colpi con quattro colpi luce chimica me la sono presa perché tanto per sprecare spazi nell'autobus non si possa riuscire forse per attirare gli zombie tipo forse nella cosa dei compieri posso provare a tirarla band ho trovato le band e mi curo subito ragazzi perché ero proprio con poca vita non mancavo ma pure poco le band ma tutti i zombie non ci faccio neanche poco andarci vediamo c'è il tetto qui ragazzi dobbiamo provare a guidare quella casa senza farci spottare dei zombie andiamo abbassati ci sono altre cose d'ambulanza secondo me ci sono altre band aspetta l'attimo oh c'è lo zombie sì scusi lei la posso prendere la campionata? quattro colpi non facciamo rumore abbassati ma altre case sono tutte giuste non si può entrare oh minchiai corvi qua c'è qualcosa no non dice un cazzo non corre non corre mi ha passato qua c'è la macchina ti immagini è evitabile la macchina no non credo no è rotto è tutto il suo zombie lo mazzoglio o lo mazzoglio lo mazzoglio lo mazzoglio con il piccolo è una gente no 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 infatti è più esistente no ora cambiamo abbassati ragazzi vediamo se riusciamo a trovare qualcosa qui c'è uno zombie proprio qui dietro l'angolo eh c'è uno guardalo come fa se andiamo nel ristorante forse troviamo qualcosa eh forse una k qualcosa forse il titolare del ristorante che hanno spottato dietro una vecchia povera vecchietto abbiamo trovati bibi ho trovato una bibida vediamo un biglietto però non mi mangio niente qui c'è una forse c'è un corto faremo di canoa forse è meglio di quelle che prendono sì sì di sicuro è meglio della mia mazza di merda allora ragazzi andiamo in questi ultimi edifici e poi stato il video vediamo se riusciamo a trovare una k qualcosa mi hanno spottato aspetto ok io ho in testa le orecchie da coniglio una mazza che ho dato ho trovato la mazza che ho dato prendito che io me la devo devo ammazzare tutte le vecchiette della città perché io sto vedendo il tutto vediamo se c'è qualcosa c'è anche il banco da lavoro ho trovato una pistola ah è un lagerazzi dove sei? eh sono fuori dalla casa ecco gli vedo c'è uno zombie lo stai attendo che mi ha seguito e poi non mi accade ma perchè hai la mascherata coniglietto? eh si l'ho messo così tanto per fare scena quello zombie chi l'ho ucciso? forse è dormiente io no forse è dormiente vediamo mi sa che c'è uno spot è dormiente si è dormiente che stava dormendo sotto il sol ma vaffanculo è sparato uno zombie sotto il nostro culo qua c'è una mitagliella un mp7 ho trovato ragazzi ho trovato l'arma oh se spieghi da quella guardami guardami con l'arma in mano vediamo all mp6 quanti colpi noi tieni la mazza che ho trovato a posto troppo ok meglio dovremo abbandonato ok eh ragazzi ragazzi noi ci vediamo dove ok qua c'è qualcuno questo ci sto seguendo ammazzo io tu pensa all'altro morire stronza chiamo il piccone è sempre più forte ok ok ragazzi noi stacchiamo qui ci vediamo alla prossima magari ritroviamo un'arma anche per Piero se volete giocare insieme a noi basta mandare un messaggio nel mio canale oppure nel canale di Piero18 e così ci aggiungiamo nella lista amici su steam e possiamo giocare anche insieme molto divertente anche magari giochiamo in un server pieno con tante tante persone la mappa è piccola quindi ci incontriremo subito persone e possiamo uccidere qualcuno o ci uccideranno ragazzi ma bello ci vediamo anche qualche zombie dai va bene ragazzi lasciate un bel mi piace nel video e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto ci vediamo alla prossima ciao ciao il freddo stagno per fare un bagno polposo sì se mi riesce io circo un pesce polposo sì lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale o vi mangio a tutti qui ci vediamo